Lo sviluppo del bambino procede immerso nel suo contesto, è impossibile pensare a un bambino come un ente a sé che si sviluppa in modo indipendente da quelli che sono gli stimoli che riceve. E questo nel bene e nel male, quindi abbiamo proprio, notiamo le difficoltà di un bambino ad esempio che vive in contesti isolati, privi di stimoli, con poche opportunità, con genitori magari anche a loro volta, con poca rete sociale. Questi aspetti entrano nella stanza del nostro servizio perché è importante che mentre conosci un bambino e fai una valutazione, esamini anche e valuti tutti questi aspetti di contesto. Anche le abitudini, i comportamenti, se sono ad esempio sani, le abitudini alimentari, se c'è il fumo, se ci possono essere elementi determinanti di salute che poi vanno ad alterare quello che può essere il normale sviluppo. La cosa che facciamo e che è fondamentale è cercare un'alleanza con i genitori, un'alleanza di tipo terapeutico perché condividiamo lo stesso obiettivo che è il bene del minore, il bene del bambino. Per cui bisogna trovare assolutamente subito le chiavi relazionali perché i genitori magari arrivano anche un po' timorosi di quello che può essere il timore di un giudizio. Perché c'è stata nella storia dei nostri servizi, soprattutto anni fa, però i pregiudizi fanno fatica a passare, l'idea che se un bambino ha delle difficoltà dipenda dagli aspetti educativi, che la famiglia non è in grado, non è capace. Assolutamente la scienza ci dimostra che questo modo di intendere lo sviluppo è completamente errato, superato perché c'è il neurosviluppo che procede lungo linee neurogenetiche dove la biologia, la genetica stessa, gli aspetti metabolici e anche la presenza di certe patologie all'interno della famiglia sono determinanti. Quindi non ci vuole il timore di mettersi in gioco perché è essenziale che si crei un clima di fiducia e questo è sicuramente il nostro intento. Grazie. 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 Grazie.